Inoltre ci lo vanno Con la parte E' un'alimentazione Ma anche questa La città La città La città La città Le bCom Le bCom Le bCom Le bCom La città La città La città La città No, non ce l'ho. No. Non è tutto a strumento. Non è tutto a strumento. Perfetto. Perfetto.